Cari telespettatori siamo di nuovo in diretta per primo cittadino e è tornato nei nostri studi il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. Buonasera sindaco. Buonasera a voi e tutti i telespettatori. Ricordo come sempre i numeri di telefono per intervenire in diretta che vedete in questo momento in sovrimpressione 0721 86 14 33 per parlare direttamente con il sindaco oppure 338 49 68 250 per inviarci dei brevi messaggi di testo. Sindaco dopo l'emergenza sanitaria si sta tornando piano piano alla normalità partiamo da una foto che racchiude la gratitudine del comune verso coloro che si sono adoperati in questi ultimi mesi. Dividiamo qua questa foto con la protezione civile con la croce rossa e il vostro grazie. Sì è stato il grazie dell'amministrazione comunale ma anche di tutta la comunità tutti i volontari della protezione civile della croce rossa ma anche di tante altre associazioni che ci hanno dato davvero una mano e sono stati a fianco dell'amministrazione comunale in questi tre mesi davvero difficili di emergenza coronavirus. Sono stati tanti i servizi che abbiamo messo in piedi dalla consegna delle mascherine alle famiglie, dai buoni spesa con la quale abbiamo raggiunto circa 400 famiglie, dal supporto psicologico telefonico con la croce rossa, dall'assistenza domiciliare per beni di prima necessità e medicinali con i volontari della protezione civile. Ma poi è stato molto bello vedere la comunità così unita e coesa e pronta anche ad aiutarsi perché davvero il periodo è stato difficile per tutti e quindi abbiamo visto tante dimostrazioni anche di solidarietà anche da parte di singoli privati cittadini, da parte delle aziende che hanno fatto delle donazioni per aiutare chi aveva più bisogno. Questo è un aspetto importante che aiuta anche un sindaco a gestire meglio la città. E proprio la scorsa settimana siamo stati nella sede della Croce Rossa a Marotta per realizzare un servizio sulla consegna delle benemerenze a tutte queste persone e sono state davvero tante per fortuna. Sì ce n'erano tante, un'iniziativa organizzata dalla Croce Rossa ma ne faremo altre anche come amministrazione comunale perché vogliamo raggiungere un po' tutti quindi anche nei prossimi mesi non ci dovremo dimenticare di quelli che sono stati tre mesi difficili in cui tanti hanno davvero aiutato la città. Stanno già arrivando tanti messaggi, tra poco arriviamo tutte le vostre segnalazioni, vorrei passare un attimo all'attualità guardando insieme la pagina che il Corriere Adriatico ha dedicato questa mattina alla Valcesano. Due milioni per la sicurezza al sindaco in visita al Fermi, c'è stato un suo sopralluogo insieme ai tecnici nel plesso scolastico dove sono iniziati i lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico. Sì finalmente sono iniziati questi lavori, avevamo spostato i ragazzi delle medie nell'edificio della scuola Moretti, della scuola elementare Moretti proprio per fare spazio a questo importante intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Un percorso non facile che è iniziato con le verifiche sismiche che erano obbligatorie per legge ma che quando ci siamo insediati nel 2016 non erano state effettuate, quindi come amministrazione comunale abbiamo fatto delle verifiche sismiche su tutti gli edifici scolastici più critici, soprattutto quelli legati al centro storico di Mondolfo. Questo era l'edificio che aveva più necessità di intervento, quindi abbiamo fatto il progetto, abbiamo partecipato ai bandi, abbiamo ottenuto i finanziamenti per l'inizio di questi lavori che sono importanti. Vogliamo dare alla comunità una scuola moderna e sicura e anche con spazi adeguati, viste anche le necessità che sono poi venute fuori adesso con l'emergenza Covid. Quindi lavori che sono ripresi dopo qualche mese di pausa forzata a causa dell'emergenza. Sì, in realtà sono proprio iniziati adesso, nel senso che dovevano iniziare prima ma poi con l'emergenza abbiamo tardato purtroppo l'inizio. Si parla appunto di ripartenza, dicevamo, sono riaperti anche i musei civici? Sono riaperti anche i musei civici e quindi abbiamo ampliato anche l'orario negli anni e adesso siamo ripartiti. Dobbiamo piano piano tornare alla normalità, non è semplice, però già anche questa mattina c'erano dei visitatori al museo e quindi è un museo civico che offre tanto, che fa conoscere le nostre bellezze, il nostro borgo ma anche la località turistica e quindi con anche l'impegno e la passione dei volontari e dell'ufficio cultura riapriamo quindi questo museo. Sindaco, lei chiedono qualche impegno preciso con Asur per l'ampliamento della Casa della Salute di Mondolfo, fondamentale presidio per tutto il comprensorio? Allora, gli impegni dell'Asur per ora non ne abbiamo avuti, abbiamo avuto l'impegno dell'Asur di iniziare i lavori della parte retrostante, l'ex ospedale Bartolini per la realizzazione di studi e quindi di medici di H24. Noi abbiamo fatto una richiesta, una lettera che abbiamo inviato alla Regione Marche e all'Asur di miglioramento di quelli che sono i servizi sociosanitari nel nostro territorio, anche prendendo spunto dal decreto rilancio salute che dà alle Regioni più risorse per riorganizzare al meglio la sanità nei propri territori, abbiamo chiesto da un lato l'ampliamento della RSA che attualmente è di 15 posti letto e dall'altro siamo ritornati su quello che è il progetto di un centro di urno per Alzheimer nel nostro comune, che è importante per il comune di Mondolfo ma è importante per tutta la vallata del Cesano e speriamo che la Regione, chi verrà dopo, ci sosterrà in questo progetto. Un progetto iniziato nel 2016 che però è stato attuato per metà, diciamo così. Sì, è stato attuato per metà perché era partita la Casa della Salute Bartolini, poi bisognava realizzare questi studi medici che però l'Asur ha tardato con l'inizio dei lavori, quindi era la mia lettera anche un sollecito appunto nei confronti dell'azienda sanitaria ma anche nei confronti della Regione Marche a non perdere tempo e andare avanti. Vado avanti con i messaggi perché sono già davvero tanti. Buonasera, Sindaco Barbieri vorrei far presente che in via Perugino manca il segnale di strada chiusa in prossimità dell'incrocio con via Bastia e via della Luna. A piano marina dovrebbero invece aumentare i bidoni per gli sfalci ma anche potenziare dei cestini per gli escrementi dei cani, posizionare dei cestini. Quindi insomma queste due segnalazioni che le fanno presente. Va bene, le raccogliamo e ringraziamo il cittadino. Ci scrivono da Marotta, vorrei chiedere se il Sindaco Barbieri può rispondere alla mia PEC, questa forse credo che sia un po' più privata. Chiedono invece dei chiarimenti sulla fibra di Mondolfo. Allora per quanto riguarda la fibra penso che si riferiscano a tutto il territorio comunale e ogni volta che vengo qui facciamo giustamente un aggiornamento perché rappresenta un'infrastruttura importante e necessaria. Dopo l'emergenza coronavirus finalmente si sono sbloccati i lavori di team, di Telecom che era quello che chiedevamo noi come amministrazione comunale ma anche che avevano richiesto con la raccolta firme tanti cittadini e quindi finalmente Telecom ha sbloccato la maggior parte dei propri armadi, quindi c'è stata un'attivazione della maggior parte degli armadi del territorio comunale, in particolar modo Mondolfo Centro e Centocroci e una parte di Marotta, quindi diciamo che i cittadini e anche diverse aziende che gravitano su Centocroci si stanno attivando e alcuni si sono già attivati con la fibra di Telecom, però c'è una parte di territorio che è Marotta Centro e Marotta Sud soprattutto che è rimasta scoperta, è anche una parte di Marotta Nord, l'abbiamo fatto presente a Telecom da un lato ma non abbiamo ancora ricevuto risposta, dall'altro però abbiamo un'altra strada che è quella di Open Fiber che sta realizzando i 53 km di fibra ottica, circa 2 milioni di euro sul territorio comunale, i lavori stanno andando avanti, pochi giorni fa erano sulla Pergolese dove adesso Anas sta asfaltando, quindi dopo aver posato la fibra ora ci sono le asfaltature da parte di Anas e quindi vanno avanti, il cronoprogramma di Open Fiber è quello di concludere i lavori entro fine anno, come sapete, come avete visto e come hanno visto anche i cittadini su tutti i giornali c'è una difficoltà da parte di Open Fiber ad andare avanti con i lavori e anche sono diverse dichiarazioni anche del governo e del Ministero dello Sviluppo Economico a sollecitare all'azienda appunto nel cablare tutti i territori, però diciamo che già un piccolo miglioramento c'è stato anche grazie all'aiuto dei cittadini. Ci spiegano proprio che durante il lockdown ci sono stati dei problemi sia per le video lezioni che per il telelavoro per cui è un servizio importante per la comunità. Un'altra cosa importante che volevo aggiungere infatti che noi ci attiveremo con la fibra anche come comune di Mondolfo quindi nel nostro palazzo comunale che attualmente non era servito e miglioreremo la connettività anche nelle scuole. Quindi questi passi in avanti ci aiutano a dare una risposta anche alla pubblica amministrazione per essere più efficienti. L'ANAS sta asfaltando la pregolese come diceva Pocanzi, c'è la chiusura della strada per tre giorni per cui anche delle deroghe sulla viabilità. Sì abbiamo inviato una lettera ai cittadini quindi sia su WhatsApp sui nostri canali di comunicazione ma anche alle famiglie che abitano proprio sulla pergolese. Asfalterà l'ANAS con un investimento importante dalla statale 16 fino ad arrivare a Centocroci, asfalterà nei tratti quelli più critici e ci saranno un po' di disagi, un po' di criticità perché da lunedì a mercoledì la strada sarà chiusa per lavori, il tratto che va dalla rotatoria esclusa al semaforo della statale 16. Però sono lavori importanti per il territorio e che anche i cittadini attendevano da tempo. Via Vittorio Veneto le chiedono è considerato centro per quanto riguarda la fibra? Viale Vittorio Veneto sì è considerato centro, Viale Vittorio Veneto è una via che arriva al centro di Mondolfo, è molto lunga quindi bisogna vedere insomma tratto per tratto il progetto. Ancora messaggi, ci scrivono adesso dal Borgo della Veterana, volevano chiedere se avete in progetto l'asfaltatura delle vie Passo di Rango e via Mengaccio. Allora per quanto riguarda le asfaltature, volevamo far partire il piano asfaltature proprio nel 2020, adesso con l'emergenza Covid ci siamo un attimo fermati perché come sapete come le aziende hanno delle difficoltà, dei problemi, abbiamo dei problemi di bilancio anche noi come comune di Mondolfo, dobbiamo far quadrare i conti quindi da un lato avremo delle minori entrate, dall'altro lato quindi dovremo cercare di soddisfare quelle che sono le esigenze dei cittadini, quindi nei prossimi mesi avremo la situazione un po' più in chiaro però entro la fine dell'anno vogliamo intervenire su quelle che sono le strade un po' più critiche. Prendiamo intanto la segnalazione e poi vediamo nella lista quelle che riusciamo a soddisfare. Da tempo si parla di nuovi parcheggi a servizio dei residenti, uffici del centro storico di Mondolfo, a che punto siamo? Per quanto riguarda i parcheggi penso che si riferiscano ad una possibilità che abbiamo nel nostro territorio di un terreno che però è privato, che è vicino alla piazza del comune dove abbiamo la possibilità di trovare una soluzione assieme al privato per la realizzazione eventualmente di parcheggi a servizio del centro storico, però ancora non ci siamo rincontrati con il privato del terreno. A proposito di lavori, ci sono anche alcuni eseguiti da ferrovie sul passaggio a livello? È così? Sì, ci sono i lavori del sottopasso ciclopedonale nell'ambito delle opere compensative di chiusura del passaggio a livello. Sono stati lavori che sono stati bloccati dall'emergenza coronavirus e quindi per il lockdown circa due mesi, due mesi e mezzo i lavori sono stati fermi e quindi hanno le ferrovie ma abbiamo nel senso come comunità perso tempo da quel punto di vista e quindi era previsto a giugno un passaggio per i cittadini e i turisti visto che è un passaggio importante per l'estate, difficilmente adesso riusciremo a garantirlo a causa dell'emergenza. Vedremo, siamo in costante contatto con le ferrovie, adesso i lavori procedono spediti e poi aggiorneremo la cittadinanza di volta in volta. Rimaniamo sul lungomare, intanto Marotta-Mondolfo, bandiera blu, quindi avete ricevuto questo prezioso vestillo 2020? Anche quest'anno abbiamo riconfermato la bandiera blu che significa qualità dell'acqua ma anche qualità dell'ambiente e è un vestillo a cui teniamo molto come amministrazione comunale, si lavora sempre molto sodo per riconfermarlo ogni anno quindi non è un vestillo che viene riconfermato in maniera così scontata e quindi ci fa molto piacere anche perché abbiamo visto che i turisti ci guardano. È ripartito anche il mercato settimanale per cui anche le varie bancarelle, gli operatori sono tornati a lavoro? Sì, è ripartito il mercato, i mercati sono ripartiti già da qualche settimana, quest'anno da qualche anno abbiamo la novità del mercato sul mare, quindi da Piazza Roma all'isola, alla Piazza dell'Unificazione abbiamo appunto le bancarelle sulla zona mare ed è un modo anche per vivere in maniera diversa il lungomare e dare ai turisti un servizio in più, un'accoglienza anche migliore. Una bella foto, stavo ammirando questa immagine. Marotta e Mondolfo sono ancora in campo, continuano ad essere in campo per la lotta all'abusivismo che è fondamentale. Sì, quest'anno rientriamo nel progetto Spiagge Sicure del Ministero dell'Interno e da qualche anno che ci proviamo finalmente quest'anno abbiamo ricevuto il finanziamento di 32 mila euro con il quale andremo ad acquistare un mezzo per la polizia locale, due bici elettriche che serviranno per gli agenti della polizia locale che controlleranno il nostro lungomare e le nostre spiagge e riusciremo ad aumentare il numero di agenti di polizia locale. Quindi ci saranno due agenti di polizia locale dedicati proprio alla lotta all'abusivismo e quindi alla contraffazione e anche per verificare il distanziamento sociale, quindi le misure previste dai protocolli di sicurezza sanitaria. Quindi un ringraziamento va anche alla prefettura e alle forze dell'ordine che ci hanno condiviso questo progetto. Ed è stata, rimaniamo in spiaggia, perché è stata riconfermata una parte di arenile per gli amici a quattro zampe, quindi per l'amico Fido. Sì, è una spiaggia libera che destiniamo appunto ai cani e viene utilizzata dai cittadini ma anche dai turisti e quindi ogni anno la riconfermiamo. È una spiaggia che si trova dopo le vele, sulla parte di Marotta Sud. Ci stanno inviando delle foto inerente all'isola ecologica di Marotta, Piazza Ricci. Ci scrivono che è veramente indecente, poco igiene in una zona anche turistica. Si può fare qualcosa? Sì, lo segnaleremo intanto alla ditta. Poi la zona, Piazza Le Ricci, è sulla zona di Marotta Nord, nella quale la raccolta differenziata è cambiata, nel senso che prima con Aset si era abituati ad avere dei bidoni stradali dell'indifferenziato, che non aiutavano a fare raccolta differenziata, però naturalmente agevolavano il turista ad arrivare a buttare tutto nel bidone dell'indifferenziato. Adesso le cose sono cambiate, il mondo va avanti, siamo nel 2020, ogni cittadino e ogni turista deve imparare a fare la raccolta differenziata, quindi i bidoni dell'indifferenziato stradali li abbiamo tolti, abbiamo lasciato quelli dell'umido e quindi è un cambio di mentalità e stiamo cercando anche noi come amministrazione comunale, ma anche i cittadini più virtuosi ci stanno aiutando a spronare le persone ad essere più corrette, a fare la raccolta differenziata e a tenere pulita la città, che non la tengono pulita per il sindaco, ma la tengono pulita per loro stesse e per la qualità della vita di tutti. Nonostante il bel lavoro con la ciclabile, rimane un pericolo davanti al ristorante sotto le vele che sale sul marciapiede pedonale, quindi un'altra segnalazione, poi le chiedono se è prevista una pista ciclabile da Marotta-Mondolfo e qui entriamo in un altro tema importante. Sì, la segnalazione di fronte alle vele fa riferimento alla pista ciclabile vecchia, perché la parte di Marotta-Sud ancora deve essere riqualificata e noi abbiamo trovato un lungomare che necessitava di interventi in cui difficilmente si riusciva a percorrerlo con la bicicletta, ma anche a piedi o con delle carrozzine e quindi siamo intervenuti in questi anni su Marotta-Centro, sulla parte di Marotta-Nord quest'anno e poi in futuro dovremo andare a prevedere un progetto e redigere un progetto anche per quanto riguarda la parte di Marotta-Sud, quindi ancora quella è una parte vecchia del lungomare. E sulla ciclovia adriatica ci può dare delle date? Sulla ciclovia adriatica ormai i lavori sono in via di conclusione, l'inaugurazione è prevista per sabato 4 luglio alle ore 18, adesso la diamo in via ufficiosa, poi utilizzeremo tutti i canali, però per pubblicizzare la nostra inaugurazione quindi di questa riqualificazione del lungomare di Marotta-Nord che ci voleva, era da tanti anni che non si interveniva e fa piacere vedere che tanti la utilizzano e apprezzano. Ricordiamo anche la lunghezza perché è un bel tratto? È 1,4 km, quindi 1,4 km che va da Piazza Unificazione fino al confine con Fano, con il Comune di Fano e con Ponte Sasso, poi il Comune di Fano continuerà con questo progetto, quindi devo dire che è un bel collegamento tra Fano-Marotta e Senigallia ed è un modo diverso di vivere anche il lungomare, quella qualità di cui parlavamo prima, è necessaria in una località turistica sia per i cittadini che ci abitano ma anche per i tanti turisti che vengono nel nostro lungomare, vogliamo migliorarla sempre di più, una città pulita ma una città anche vivibile con delle infrastrutture che possono essere utilizzate in questo caso dai ciclisti ma anche da pedoni. Certo, ed è sempre più bella. Poi parleremo anche dei mosaici che l'Associazione Chiaroscuro sta realizzando ma ci torneremo tra poco. Ci stanno inviando, Sindaco, tante foto del Comune di Mondolfo e sono veramente belle. Purtroppo non riusciamo a trasportarle, a metterle in onda, quindi a mandarle in video, però grazie per la vostra collaborazione. Andiamo al ponte ciclopedonale sul fiume Cesano. Dovevano essere affidate la progettazione più che altro, però durante il mese di aprile, perciò immagino che ancora non sia stato fatto. Tra qualche settimana verrà affidata la progettazione per il progetto esecutivo, quindi entro l'anno avremo il progetto e poi il prossimo anno inizieranno i lavori di questa importante opera che attendiamo tutti con grande soddisfazione. Anche perché andrà a unire due comuni, due province. Unirà due comuni, due province, ma è un'infrastruttura che unisce anche proprio le persone. e queste sono le infrastrutture che fanno bene al territorio, fanno bene alla provincia di Peso e alla provincia di Ancona. Quindi è un altro tassello importante che speriamo di vedere all'inizio dei lavori nel 2021. Io penso più nella seconda metà del 2021, però è un'infrastruttura davvero importante. State puntando tanto sulla sostenibilità? Sulla sostenibilità stiamo puntando tanto, ma è anche l'Europa punta sulla mobilità sostenibile, quindi cerchiamo anche di adeguare i nostri progetti per avere i finanziamenti e quindi migliorare il territorio con le linee guida che dettano anche dall'Europa e dal governo nazionale. Ad esempio sulla mobilità sostenibile ci siamo confrontati anche poche settimane fa con i sindaci della vallata del Cesano perché abbiamo ottenuto un altro finanziamento importante che è di 800 mila euro per la ciclovia del Cesano, quindi un percorso ciclabile che collegherà Marotta alla croce del Catria, quindi lungo il fiume Cesano. Quindi ci stiamo accordando, sto mettendo insieme tutti i sindaci della vallata del Cesano in quanto il comune di Mondolfo è il comune capofila di questo progetto. Quindi stiamo lavorando per il futuro e abbiamo ottenuto, ti aggiungo anche questo, abbiamo ottenuto un altro finanziamento con un progetto sempre Fano Mondolfo e Senigallia assieme, che è il progetto famose che migliora i percorsi ciclopedonali esistenti nel proprio territorio e quindi noi utilizzeremo quel finanziamento per collegare Centocroci con San Gervasio. Qualche anno fa abbiamo fatto il percorso ciclopedonale che collegava Centocroci a San Sebastiano, ora da San Sebastiano vogliamo che si possa arrivare in sicurezza a San Gervasio. Si parla del 2020? L'inizio lavori nel 2021, quindi il progetto già ce l'abbiamo, la gara, quindi l'affidamento dei lavori, l'inizio lavori diciamo nei primi mesi del 2021. Sindaco, le chiedono se è prevista la demolizione della scalinata di via di Bruno in zona mare che oltre ad essere un vero ecomostro, dicono, crea soltanto dei problemi. Sì, è una scalinata che in occasione della sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito definitivamente l'unificazione di Marotta, ci siamo detti ecco come in maniera simbolica che doveva essere abbattuta. Vediamo se ci riusciamo nel breve perché comunque ha un costo, dei costi importanti, però è uno degli obiettivi. A che punto sono invece le fogne in via Sterpettine e via Clementina? Via Sterpettine e via Clementina la fognatura è stata realizzata da poco da autostrade, penso che si riferiscano a quella fognatura. A che punto sono? Io non so cosa significa. Si sono iniziati ad allacciare i cittadini ma anche le aziende in quella fognatura. Però i lavori sono conclusi comunque. Ritorniamo su Viale Vittorio Veneto perché le chiedono quando risolverà il problema della velocità. Il problema della velocità di Viale Vittorio Veneto non è facile da risolvere. Io l'avrei risolto con degli attraversamenti pedonali rialzati. Purtroppo quella è una strada provinciale e la provincia non ce li ha mai autorizzati. Al momento abbiamo fatto un percorso pedonale, abbiamo messo due attraversamenti pedonali illuminati quindi abbiamo riqualificato la zona cercando di aiutare il più possibile il pedone garantendogli sicurezza. Sappiamo che non basta, dovremmo continuare in questa direzione. C'è un incrocio molto pericoloso tra Viale Vittorio Veneto, Viale dell'Industria e Viale dell'Artigianato dove sarebbe necessaria una rotatoria e anche lì siamo in contatto con la provincia. L'unica cosa è che parlando con la provincia il 70% delle spese deve mettere il comune e il 30% la provincia. quindi non ci sembrava giusto in una strada provinciale portare avanti un accordo che era sfavorevole al comune di Mondolfo. Quindi adesso vedremo, anche la provincia riceverà molto probabilmente dei finanziamenti per la sicurezza nelle strade e mi auguro che decidano poi, che pensino anche al nostro territorio. Sto cercando di interpretare un messaggio, spero di capire le necessità dei cittadini. Intanto la zona, via Cristofalo Colombo, lungomare, dal Residence Le Vele fino al camping Cesano. C'è una difficoltà a parcheggiare e quindi se fosse possibile fare qualcosa? Mi dicono anche della ghiaia sul lato mare, i parcheggi per camper. Allora, adesso cerco di interpretare un po' con delle segnalazioni che magari alcune volte arrivano lì nella zona dove di solito si parcheggia a monte, da dopo le vele, il parcheggio a monte non c'è l'asfalto ma c'è la pavimentazione diciamo di cielo stabilizzato. Quindi io credo che chiedano un intervento di asfaltatura. Per quanto riguarda i camper, lì abbiamo un problema perché spesso ci sono dei camperisti che vanno a parcheggiare sul lato, questa volta a mare, impedendo l'accesso sulla spiaggia e quindi in una zona dove non potrebbero parcheggiare. Quindi penso che siano queste le segnalazioni. Invece sono aumentati i controlli anche nei vari sottopassi? Sono aumentati i controlli, abbiamo installato delle telecamere, telecamere di videosorveglianza sia per controllare lo stato in contemporanea del sottopasso, soprattutto quando piove che c'è sempre il rischio di allagamenti ma fungono anche da deterrente per chi entra ed esce dalla zona mare. Quindi permette alle forze dell'ordine, alla polizia locale di mantenere un controllo costante sullo stato dei sottopassi ma anche proprio su coloro che escono ed entrano dalla zona mare. li abbiamo realizzati sia sul sottopasso di via Foscolo che sul sottopasso Togliatti e vogliamo estenderlo. Quindi riuscite a controllare anche gli allagamenti in questi casi? Cosa? Riuscite a controllare anche gli allagamenti? Sì, riusciamo a vedere la situazione e lo stato in tempo reale. e poi vorremmo fare anche un ulteriore intervento sul sottopasso Togliatti che è il sottopasso che ha maggiore criticità e quindi vedremo poi nei prossimi mesi se riusciremo. Già abbiamo fatto dei miglioramenti comunque, degli interventi costanti nel tempo. Vogliamo estenderlo anche al sottopasso delle Rane di Marotta Nord. Pensate di aggiungere questi sistemi di controllo anche ad esempio nel centro storico? Allora, lì non è semplice con i collegamenti e quindi al momento con le forze nell'ordine abbiamo utilizzato delle telecamere esistenti di privati piuttosto che di banche, delle poste quindi ecco il centro storico l'abbiamo controllato in quel modo. Noi abbiamo ottenuto un finanziamento con il Ministero per un progetto importante che abbiamo realizzato sul territorio comunale confrontandoci con le forze dell'ordine abbiamo preferito installare le telecamere ai confini, quindi il confine con il Comune di Senigallia davanti al casello autostradale, davanti alla stazione e quindi in punti critici in cui le forze dell'ordine ci chiedevano appunto la necessità di queste telecamere. Abbiamo ancora tanti messaggi però ci dobbiamo fermare per qualche istante e dobbiamo ancora tornare a parlare di opere pubbliche, di eventi e tanto altro. Ci vediamo fra poco. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri il sindaco intanto le suggeriscono magari anche qualche multa in Viale Vittorio Veneto per cercare di fermare come da deterrente diciamo così per chi sfreccia lungo il Viale e ovviamente è rivolto alle forze dell'ordine. E ancora, andiamo avanti con i vostri messaggi perché sono davvero tanti come vi dicevo prima. Via Damiano Chiesa è una delle strade principali della zona mare ed è anche molto stretta. Le auto sfrecciano anche qui attaccate alle abitazioni. Sono previsti dei rallentatori? In questo caso le chiedono del traffico? Lì un cittadino ci ha chiesto un attraversamento pedonale rialzato più o meno a metà della via di Via Damiano Chiesa quindi vicino anche ad un incrocio e quindi lavoreremo semmai per questo. Vorrei sapere che fine hanno fatto i fondi per l'alluvione del 2016? I fondi dell'alluvione del 2016 sono fondi che devono arrivare dalla regione Marche purtroppo questi fondi sono in ritardo. Noi come amministrazione comunale sollecitiamo costantemente anche perché c'è stata un'alluvione molto importante a giugno del 2016 lo ricordo molto bene perché da poco mi ero insediato nel comune di Mondolfo come sindaco. Sono in ritardo questi fondi. l'alluvione di Senigallia ad esempio è stata nel 2014 e soltanto l'anno scorso hanno ridato la regione Marche ha ridato i fondi quindi sono passati diversi anni quindi adesso speriamo che poi vadano avanti anche con tutte le altre situazioni di criticità che ci sono state nel tema. E speriamo anche celermente. La spiaggia per la Croce Rossa rimane sempre lì oppure verrà ampliata visto che fanno un bel servizio? Al momento rimane lì ma stiamo portando avanti il nuovo piano spiaggia adesso stiamo raccogliendo tutti i pareri e la Croce Rossa ci ha richiesto uno spostamento vorrebbero spostarsi nella spiaggia di fronte alla colonia naturalmente prendendo solo una parte di quella spiaggia e quindi vedremo poi affronteremo il progetto e la proposta in consiglio comunale quindi assieme anche alla minoranza. Sindaco come mai il verde stumarotta non viene ripulito? Siamo invasi dalle formiche in via Ugo Betti ci sono dei problemi un po' di degrado? Ma adesso grossi problemi non li ho visti la percorro quasi tutti i giorni però dai ci andremo a vedere insomma soliciteremo gli uffici e le dite. Ancora altri messaggi la rotatoria della strada statale 16 al semaforo quando viene fatta? La rotatoria ancora non abbiamo i tempi per la sua realizzazione perché stiamo attendendo l'ok da parte di ANAS per inserire il progetto e l'approvazione della convenzione con l'ANAS di Ancona e per inserire il progetto nel piano investimenti quindi finché l'ANAS non inserisce questo progetto tra i propri finanziamenti noi non portiamo avanti l'attività di esproprio perché quel terreno ancora è un terreno privato quando ci siamo insediati il terreno era privato e non c'era stato il passaggio con il comune di Mondolfo quindi noi non porteremo avanti l'esproprio finché l'ANAS non dà l'ok proprio con il progetto quindi poi aggiorneremo i cittadini anche nei prossimi mesi sull'evoluzione stiamo costantemente contattando l'ANAS che ci ha dato un ok a voce però vogliamo l'ok scritto assolutamente l'ultima volta che è venuto qua sindaco abbiamo parlato anche di opere pubbliche lavori che ha annunciato lavori che invece sono proseguiti della scuola media ne abbiamo parlato andiamo avanti con ecco qua vediamo il campo sportivo l'ampliamento del cimitero e il bastione tutti i progetti importanti a che punto sono? Sì allora la scuola media ne abbiamo parlato prima sono iniziati i lavori il campo sportivo l'abbiamo completato faremo poi nei prossimi mesi anche degli aggiustamenti però diciamo purtroppo l'emergenza covid non ci ha permesso l'organizzazione di uno dei tornei più importanti che veniva organizzato appunto all'interno del campo sportivo che è la stracittadina però ecco torneremo prima o poi alla normalità comunque una bella riqualificazione per il centro storico di Mondolfo attesa da decenni e per quanto riguarda l'ampliamento del cimitero sono iniziati anche lì abbiamo iniziato da diversi mesi i lavori quindi l'ampliamento del cimitero quindi per far fronte appunto all'emergenza di loculi che non ne avevamo perché quando ci siamo insediati avevamo circa sette loculi rimasti quindi piano con il tempo abbiamo portato avanti diversi interventi nel vecchio cimitero e ora stiamo portando avanti gli interventi di ampliamento del cimitero comunale il bastione sono iniziati i lavori pochi giorni fa quindi abbiamo appunto affidato i lavori alla ditta che gli ha iniziati ha fatto partire quindi da pochi giorni il cantiere è una zona e un luogo simbolo per Mondolfo che però è stato lasciato da troppi anni all'abbandono e anche siamo contenti che come amministrazione comunale porteremo avanti anche questa riqualificazione che richiede da tanto tempo i mondolfesi qua vedete alcune immagini che sono dei rendering dove praticamente faremo dei lavori di restauro del bastione quello che vedete è l'accesso su via Genga quindi riapriremo quell'accesso sarà possibile visitare l'interno appunto del bastione ci sarà appunto un vero e proprio spazio museale ma spazio anche culturale e quindi si accederà anche da via Genga e ci saranno delle scale che porteranno poi al giardino che si trova sopra al bastione quindi davvero una riqualificazione per il centro storico di Mondolfo dopo questo lavoro la nostra intenzione è quella di riqualificare mi spingo avanti la pavimentazione della piazza del comune che necessita di intervento però ecco non possiamo fare tutto non sarà facile non sarà facile anzi quasi quasi impossibile però comunque dai intanto portiamo avanti questi lavori di riqualificazione del bastione Sant'Anna e di concludere nel migliore dei modi e poi dai ci organizzeremo i tempi sono 180 giorni quindi all'incirca io penso che ecco agli inizi del 2021 speriamo di riuscire ad inaugurarlo quindi un altro taglio del nastro saremo a buon punto le scrivono anzi ci scrivono addirittura da Iesi un ragazzo le vogliono fare complimenti per come ha rilanciato tutto il lungomare di Marotta sindaco giovane idee giovani quindi sicuramente un turista che è rimasto soddisfatto della città anche il portale giusto il sito si è rifatto un po' il look sì abbiamo fatto diversi interventi al nostro sito turistico e abbiamo migliorato anche l'immagine c'è una pagina social che promuove il nostro territorio che è destinazione Mondolfo Marotta che la portiamo avanti in collaborazione appunto con l'ufficio turismo e all'ufficio cultura e vediamo che insomma l'idea è quella proprio di far vedere quelle che sono le bellezze del nostro territorio per attirare sempre più i turisti abbiamo tanti spazi da vedere una città accogliente quindi dobbiamo promuoverla nel giusto modo lo diceva prima che ci sono persone che mandano ecco le immagini le foto e questa è una cosa che anni fa non succedeva cioè il cittadino inizia ad apprezzare il posto in cui vive noi come amministrazione comunale cerchiamo di far di tutto per riqualificarla al meglio le chiedono però se i bagni pubblici sono previsti avete in progetto la realizzazione di questi bagni bagni pubblici non so se parlano del centro storico di Mondolfo o forse sul sul lungomare nel lungomare non ci sono mai stati ce n'è stato ce n'è uno attualmente vicino al molo però ecco non non lo hanno specificato però se mancano sia da una parte che dall'altra forse possiamo dare una risposta un po' generica non so se state progettando anche questo oppure se ci penserete vista la segnalazione no al momento c'era stata una richiesta vicino alla piazza del comune dove ci sono dei locali dove potrebbero sorgere delle attività che però sono locali molto piccoli non so se si riferisce a questo il cittadino sono dei locali molto piccoli e quindi difficilmente si riesce a creare diciamo un'attività in cui c'è anche il bagno all'interno e quindi in alcuni casi in alcuni centri storici danno la possibilità con con dei bagni pubblici esterni ecco di dare servizio ai propri clienti ci precisa ancora qualcuno della pulizia del verde che è un po' trascurata sempre a Marotta e poi un altro messaggio in via della Luna in piano marina nel giardino comunale dove c'è la pista ciclabile nuova gli alberi hanno raggiunto un'altezza vertiginosa coprendo l'illuminazione stradale e in alcuni casi entrano anche nei balconi di casa se fosse possibile allora per quanto riguarda la pulizia del verde questa settimana sono partiti è partito il secondo giro di tutto lo sfalcio del verde nei giardini pubblici anche all'interno dei giardini delle scuole quindi penso magari fanno riferimento a quello quindi questa settimana e la prossima ci sarà un nuovo giro e già è iniziato oggi e per quanto riguarda il piano marina nella nuova pista ciclabile penso che si riferiscono vicino perché nella nuova pista ciclabile al momento non ci sono alberi se non qualcuno all'inizio quindi credo forse su via della luna essendo chiuso il passaggio a livello la domenica i giorni in cui le spiagge sono piene si creano inevitabilmente delle file di macchine diventa anche pericoloso l'incrocio del sottopasso per immettersi sulla statale l'incrocio del sottopasso di via Togliatti e le chiedono se si può fare qualcosa ci sono stati anche diversi incidenti di scooter moto quindi ciclomotori che sono stati coinvolti sì lì il sottopasso Togliatti abbiamo previsto appunto siccome è diventato anche un punto di passaggio di pedoni e ciclisti abbiamo appunto previsto in anticipo anche un attraversamento pedonale illuminato in modo tale che alla sera il pedone o il ciclista potesse essere più visibile alle auto però lì è una situazione molto critica e non semplice da risolvere quello è un incrocio che è sempre stato così e non ci sono neanche grandi spazi per realizzare cose diverse da quello che c'è attualmente in merito all'emergenza covid le chiedono ormai è chiaro che si sono create due fazioni ben distinte nei fazionisti e gente preoccupata volevo sapere per la stagione estiva quali precauzioni sono state adottate le precauzioni non le adotta il comune ma le adotta il governo e la regione con le linee guida e con le misure previste dai protocolli di sicurezza sanitaria vediamo che c'è un pochino di confusione anche a livello nazionale dove alle attività sono stati messi appunto dei paletti però poi ci sono delle scelte ad esempio adesso sembra che vogliano aprire le discoteche quindi ci sono delle scelte un po' contrastanti quindi noi ci atteniamo a quelle che sono le linee guida regionali e nazionali per quanto riguarda le spiagge libere abbiamo appunto previsto delle norme da rispettare ma sono quelle indicate dal protocollo regionale quindi se non si è congiunti bisogna mantenere la distanza interpersonale di un metro da palo a palo tra gli ombrelloni di tre metri e mezzo tra i lettini le sdraie due metri quindi ci sono queste tabelle informative ci sono i controlli i controlli con la polizia locale i volontari della protezione civile sono presenti sul lungomare tutti i giorni e quindi anche loro ci danno una mano e vigilano sul rispetto delle normative quindi mascherine soltanto per spostarsi dal proprio ombrellone giusto ad esempio se si va in un bar si sono le normative che sono state già previste non ci sono ordinanze aggiuntive previste almeno al momento per quest'estate poi siamo sempre in costante contatto con gli altri comuni limitrofi con la prefettura soprattutto di Pesaro Urbino quindi neanche nei luoghi della Movida ormai non c'è più questa ordinanza in vigore al momento no tra l'altro Pesaro ha fatto questa scelta dettata da delle situazioni che avevano nella loro città da noi la situazione era un pochino diversa ci sono delle criticità soltanto in alcuni chioschi però non è che ci sono delle zone Movida come ci può essere a Fano a Lido oppure a Pesaro e quindi meno sembramenti nelle vostre zone ecco noi abbiamo fatto un'ordinanza più ad hoc dove obbligavamo di indossare le mascherine nei pressi dei locali a chi naturalmente non consumava quindi però sono tutte ordinanze che vanno dietro a quelle che sono le linee guida del Ministero poi vediamo che le cose cambiano di settimana in settimana quindi ci terremo aggiornati e informeremo la cittadinanza come abbiamo sempre fatto le fanno i complimenti anche per i parcheggi gratuiti sul lungomare una cosa molto rara anche qui da Iesi quindi avete tanti turisti no sì anche da sud delle marche in realtà infatti noi alcune volte non ci rendiamo conto del fatto che sul nostro lungomare si può parcheggiare gratuitamente quindi si può parcheggiare senza pagare nulla non succede in altre località turistiche c'è anche chi chiede di fare i parcheggi a pagamento quindi poi saranno delle valutazioni che faremo in futuro questa per ora è stata la nostra scelta e saranno gratuiti certo parliamo dei mosaici Sindaco visto che rimaniamo sulla zona del lungomare un lungomare che ha cambiato anche aspetto in questi ultimi anni ed è da riconoscere vediamo qua la foto di questi ragazzi davanti mosaici tanti metri tanti metri di muretto che sono stati dedicati c'è stata proprio una collaborazione tra l'associazione Chiaroscuro e il comune di Mondolfo sì una bella collaborazione soprattutto con tanti cittadini e volontari dell'associazione Chiaroscuro che ormai da anni lavorano sui muretti del nostro lungomare e anche quest'anno si sono aggiunti nuovi mosaici sui muretti è davvero una bellissima riqualificazione le ringrazio le volontari e volontari dell'associazione Chiaroscuro a nome di tutta la comunità perché fanno un lavoro straordinario e dimostrano una passione un amore per il territorio che ogni cittadino dovrebbe avere poi sono state molto brave perché hanno coinvolto le scuole hanno saputo coinvolgere gli amministratori gli anziani anche in tanti altri progetti proprio legati anche alla solidarietà ma anche di valore quindi davvero non di poco conto e domani sera manderemo nel nostro telegiornale proprio un servizio dedicato ai mosaici per cui non perdetevelo per quanto riguarda gli eventi sono stati annullati tutti oppure qualche iniziativa ancora può essere svolta quindi al momento navighiamo un po' a vista penso come come tanti comuni perché abbiamo queste misure naturalmente che devono essere rispettate quindi gli eventi ci saranno ma saranno un po' più rivisti saranno ridimensionati e quindi stiamo lavorando anche con le associazioni del territorio l'altra sera c'è stato un incontro con la Proloco Mondolfo siamo in contatto con la Proloco Marotta con Proarte Mondolfo con l'associazione Malarutta quindi comunque avremo degli eventi che accoglieranno al meglio i nostri cittadini i nostri turisti ma saranno naturalmente eventi fatti in sicurezza ridimensionati ad esempio adesso stiamo organizzando con Proarte Mondolfo per il Sinestesia Festival che quest'anno che era uno degli eventi di punta nel centro storico di Mondolfo verrà comunque organizzato ma in maniera un po' un po' diversa con gli artisti di strada sarà possibile organizzare anche con gli artisti di strada Marotta in questo caso organizzavamo festivale e al momento non è non è confermato quindi vediamo avevamo la notte dei bambini avevamo il torneo di Bissoccer delle nazioni con Sky Sport e Sport Italia purtroppo tutte queste cose hanno un po' bloccato la nostra stagione estiva avevamo il bus pronto il bus navetta solito che insomma avevamo anche l'anno scorso che collegava Mondolfo con Marotta in collaborazione con il Maestrale però anche qui come avete visto i mezzi di trasporto hanno comunque delle limitazioni importanti c'è anche un'altra iniziativa di cui volevamo parlarvi la danza delle scarpette rosse di che cosa si tratta sindaco? è un'iniziativa che anche qui abbiamo organizzato in collaborazione con l'associazione Chiaroscuro ma organizzata dalla presidenza del consiglio comunale la presidente Filomena Tiritiello con Delegale Pari Opportunità che ha coinvolto tutte le donne del consiglio comunale per portare avanti questo questo progetto quindi in occasione della giornata contro la violenza delle donne che ci sarà a novembre verrà posizionato questo questo mosaico delle scarpette rosse quindi in questo periodo l'associazione e il consiglio comunale invitano tutti i cittadini a realizzare con la tecnica del mosaico aiutate naturalmente dalle volontarie dell'associazione delle scarpette rosse che poi verranno posizionate su un muretto del nostro lungomare che inaugureremo a novembre quindi un modo diverso anche coinvolgente per riqualificare da un lato una zona del lungomare ma dall'altra parte per parlare di una tematica di un problema serio importante che non può essere trascurato le propongono di installare dei cestini per gli escrementi dei cani nel viale dei tufi madonna delle grotte ok prendiamo la segnalazione dei bidoni insomma dei cestini dell'indifferenziato diceva poco fa sindaco anche di questa futura inaugurazione lei è stato eletto lo ricordiamo nel 2016 i suoi concittadini si ricorderanno benissimo quel momento per cui ha ancora un altro anno da primo cittadino però come dicevamo sono davvero tanti i progetti tante tante le iniziative quindi le cose in programma e i tagli del nastro si sono sono stati quattro anni di impegno passione ed entusiasmo per il servizio della nostra comunità si stiamo raccogliendo diciamo che di solito i politici sono abituati a arrivare a ridosso delle elezioni con le opere che iniziano proprio negli ultimi mesi le asfaltature opere pubbliche proprio per far vedere che qualcosa è stato fatto diciamo che noi arriveremo alla fine dei cinque anni con tante cose invece che sono state realizzate e di cui i cittadini hanno avuto modo di insomma di vederle di utilizzare di usufruirne però ci sono anche tanti altri progetti che stiamo portando avanti quindi devo dire che siamo molto soddisfatti sono soddisfatto della squadra una squadra sempre molto attenta sempre molto disponibile che ha passione non è facile trovare persone che hanno passione per la politica da un lato ma anche passione e amore per la città ed è lodevole tutto questo quindi sono molto contento personalmente di aver cambiato la città la stiamo cambiando la stiamo migliorando c'è ancora tanto da fare però ecco siamo soddisfatti e ringraziamo anche tutti i telespettatori che hanno inviato tanti messaggi anche perché grazie a loro a volte si possono si può migliorare anche in questo caso la città con le varie segnalazioni per cui ecco questo programma è dedicato proprio a voi cittadini per rendere sempre migliore la città in cui si abita Sindaco grazie per essere stato nei nostri studi ci rivediamo nei prossimi mesi e logicamente nei nostri servizi che dedichiamo nel Tg a Mondolfo domani vi ricordo che nel telegiornale delle 20 e 30 andrà in onda proprio quello dedicato ai mosaici di Marotta grazie a voi davvero una bella opportunità per parlare del territorio e capire anche le cose che vanno e che non vanno quindi grazie davvero per questo servizio che fate alla comunità grazie ancora al Sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri grazie a tutti voi per averci seguito vi ricordo che alle 22 e 30 andrà in onda il telegiornale di mezzasera e domattina puntualmente alle 7 andrà in onda invece la nostra rassegna stampa occhio ai giornali buona serata a tutti voi arrivederci Sindaco grazie a tutti